Pozzo Leone perde il telefono mentre cammina lungo il Brenta sotto il ponte di Friola, lo cerca per ore senza esito, ma al suo posto trova un portamonete con dentro 800 euro, nessun documento, solo la ricevuta di una visita medica. Lei, bastanese di 24 anni, consegna il portafogli al commissariato di Via Pecori-Giraldi. Gli agenti riescono a rintracciare il proprietario, un uomo di 59 anni di San Pietro in Gu, che giorno prima era andato a camminare nello stesso posto e lo aveva smarrito. Tutto è bene quel che finisce bene, circa, perché poi non si è saputo se alla fine la ragazza abbia ritrovato il suo cellulare.